te ne racconto due veramente incredibili anche per la caratura dei personaggi parto da quello meno salto all'Hollywood a fare una serata entro, vado nel privé, una serata tra l'altro con pochissima gente entro nel privé dell'Hollywood e c'è Marilyn Manson tutto truccato da Marilyn Manson con un tavolo con venti fighe che beve è tutto gentilissimo, mi ha fatto l'autografo si, che uno si immagina e ti dice no, è una signora in persona normale poi la seconda che vuoi sapere è veramente veramente incredibile quello meno era Marilyn Manson quello veramente incredibile è questo allora una volta vado a Bologna con mio amico Sgarra, Guè e Marrakesh ci fermiamo all'autogrill, credo che fosse Borgo Panigale e c'era uno Starbus gigante davanti c'era una Ferrari Enzo Ferrari Enzo ne avevano fatte tipo mille quindi era una roba che poteva essere solamente lasciamo perdere, entriamo dentro l'autogrill e dentro l'autogrill da solo che compra la rustichella c'è Giammi Rucuai e io ho una fantastica foto ricordo in cui sono io, mio amico Sgarra, Giammi Rucuai nella Ferrari Enzo e dietro il bollo di spiglie Pizzico 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 Pizzico